Sino un po' di tempo fa, quando si diceva recessione, si pensava subito al settore edilizio come baluardo anticrisi. Ora in crisi, però, finiscono anche i settori un tempo al riparo. L'edilizia, ad esempio, tra il 2008 e il 2009 ha conosciuto solo segni in meno. Meno 12,2% di occupazione con la perdita di 2.560 posti lavoro, meno 8,8% di imprese, meno 16,8% di ore lavorate. I dati sono assolutamente allarmanti, di un settore fermo che non riesce a ripartire. Sono fermi gli appalti pubblici, è ferma l'edilizia privata, non partono come dovrebbero le grandi infrastrutture, tante attese in questa regione. Siamo andati molto peggio rispetto a un momento che pensavamo già fosse il momento più basso della crisi del settore. Saper cogliere le opportunità della crisi o almeno saper reagire portando proposte concrete. Questo il quadro composto dalla filca CIS Marche. Chiediamo alla regione innanzitutto di farsi promotrice verso gli organi superiori, verso il governo affinché vengano accelerati i lavori delle grandi infrastrutture. Chiediamo poi alla regione di utilizzare al meglio i 7 milioni di euro che sono stati assegnati nei giorni scorsi per l'edilizia sociale, quindi per la costruzione di nuove case e per finanziare cooperative edilizie. L'altro aspetto è quello della regolarità delle imprese. Chiediamo alla regione un intervento per andare alla verifica della legislazione attuale sul DUR che per fare in modo che venga contenuto al massimo il lavoro irregolare in questo settore.